Non solo abbigliamento, borse, calzature e giocattoli. Qualsiasi cosa viene contraffatta, diventando un pericolo per la salute dei cittadini. E la Guardia di Finanza non tralascia alcun settore merceologico nei suoi servizi volti al contrasto alla contraffazione dei marchi, soprattutto quando va ad ispezionare attività commerciali all'ingrosso, dove facilmente si possono nascondere prodotti non originali. In base a queste direttive, i finanziari della compagnia Pronto Impiego di La Mezzia Terme hanno eseguito due ispezioni nei confronti di altrettanti commercianti all'ingrosso di sante eufemia, gestiti da soggetti di nazionalità cinese, durante i quali sono stati sequestrati quasi 4.500 prodotti recanti il marchio Duracell contraffatto, in particolare pile e relative blister, e quasi 100 tubetti di colla riportanti il marchio Lockheed Super Attack, anch'esso contraffatto. Merce pronta per essere immessa sul mercato al dettaglio. Gli articoli contraffatti erano privi delle necessarie caratteristiche fisiche e meccaniche e delle certificazioni di garanzia previste dalla legge italiana per la tutela dei consumatori dal pericolo derivante dall'utilizzo di prodotti non conformi agli standard di sicurezza. In particolare, le pile sarebbero potute esplodere se sottoposte a sollecitazioni e la colla avrebbe potuto avere effetti deleteri al corpo umano se inalata o ingerita. I due commercianti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di La Mezzia Terme per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per recettazione.